Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Oh my god, ma, è scato. Ma, è scato. Ma, è... O... Sensitive, è scato, è scato. Ma, è scato. Ma, è scato. come si è iniziato come si è iniziato un altro ma sta a fare ma stagione 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 E' un'espoche, che sono disperse. C'è un'espoche molto meglio, e' un'espoche. C'è un'espoche, e' un'espoche, e' un'espoche molto meglio. C'è un'espoche, e' un'espoche. come alimentano asi valle uur a abbell blo 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 Angle shitton che believed inalis ap che εδώ xabi g and che che vu Sì Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Tu smmni, al l'ahu. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. È tutto bene. io c'è il loro gioco lo dobbiamo fare noke o kaganazuna oma si checka un belimo eres un avdice che è di un amico prima che è la mano Come on, we've got work to do. That's fucked up. Fuck. I didn't think I was gonna hit that. Just...合流します. 撃って、コーヒー撃ったら帰ってくるんじゃねえ? 撃て撃て撃て撃て撃て撃て! 撃て撃て撃て撃て撃て! 撃って撃て撃て撃て撃て撃て! ああ、時間出て来た! おいおいおいおい! 来た来た来た来た来た! お疲れい! ウィーお疲れい! ううんづけりい! やりますか! あれは突然... ローレンとこマジでバランスいいなぁ Sì, davvero braunce, ma rollo che non è rosa. Ibrahim è già più IGL, ma rollo che ha potuto. Ma c'è anche l'abbiamo... Ci sono... ...c'è un'idio può essere lo che... ...c'è un'adio? C'è 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 e 2 e due Sì, sono dietro! Mi ha fatto! Si può andare! Sniper la luce! Gendone! Fentati! 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 Sì! Wait, Desaiful the knock! Desaiful! Come on, Desaiful! Desaiful! Oh my god! Come on! Top 9 right now, top 9 for Desaiful. I mean, they might have twisted minds after that one, but now GHS looking to try and do the same thing. Can they be the ones that take down Desaiful? Desaiful, Desaiful, Desaiful. I don't know if it's enough. Will they be caught by anyone else? Has Desaiful just pulled off a madness for them? I don't know. I have no idea. They should be good now. Seven squads remain by the one. GHS just 100% qualified. Guaranteed. I'm going to hit the pass. I'm going to go to the other side. Okay. I'm going to go to the grapple. Let me get a Uranus. 42. 120. A 1,2. A 1,2. A 117. A 1,2. A 1,2. A NICE. di Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Fizzicu è molto forte, ma anche se si può fare E come si è una scena Stati回ri, anche se si è molto bene E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa? E' un'altra cosa?